Ciao a tutti, gioche da Joker. Ho appena comprato questo fucile a pompa bellico, sto guardando un attimo le caratteristiche, c'è un silenziatore che per il momento non lo metto e non vedo il caricatore, qua dice al massimo, munizioni dice qua. Non togli, è al massimo, ok vediamo, vediamo sto fucile a pompa, vabbè devo uscire da qui perché se no, se no chiama la polizia. Allora vediamo questo fucile a pompa bellico, sto facendo una missione comunque per quello, voglio solo vedere un attimo. Quanti colpi ha, è già al massimo, eccolo qui. Ah ok ok. Ok allora il video finisce qua, sono con lui, con il cugino di 60 che mi sto facendo sta missionzina. Ho detto, mi fermo un attimo e prendo un paio di giubbotti e vediamo anche il fucile a pompa e l'ho preso. Al prossimo video, ciao a tutti, guarda mi ha dato anche i soldi, 2000. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti.